La candidatura di Nello Musumeci compatte il centrodestra siciliano, con lui Gaetano Armao sarà vice, Roberto Lagalla che entra nella squadra rinunciando a correre come presidente, sala stampa gremita all'assemblea regionale, ci sono tutti, vertici di Forza Italia, noi con Salvini, Cantiere Popolare, Udc diventerà bellissima, Fratelli d'Italia, autonomisti e sicilianisti, il movimento di Stefano Parisi. Avremo una giunta con un presidente, un vicepresidente e il resto degli assessori che riceveranno le deleghe in funzione delle competenze d'intesa con le forze politiche, vogliamo segnare la discontinuità.